Primo giorno di carnevale qui a Venezia e già dalla mattina si vedono le prime splendide maschere sfilare tra le calli. Motivo di svago, motivo anche di confrontarsi con altra gente, anche di far contenti altra gente, ti chiedono le foto insieme, li vedi col sorriso, li vedi insomma, sembra proprio una cosa bella. Che gioia, uscire un po' da tutte le giornate grise. Il carnevale prende ufficialmente il via, questa sera con il grand opening Take Your Time for the Original Signs, il Canal Grande si colorerà di luci, danza e musica, uno spettacolo con tutti i simboli della tradizione in un'atmosfera ancestrale. Venite sul Canal Grande, dalla ferrovia fino al bacino di San Marco, c'è una grandissima barca creatura che abbiamo chiamato Original Dreamer, con tutti i protagonisti del carnevale di Venezia, con effetti speciali, con musica, una cosa pulsante e viva che attraverserà tutta la città portando la Maria dell'anno scorso Alice Bars fino a San Marco. La parata sarà capitanata da un unicorno su uno sfondo bianco come le pietre fondanti dell'architettura della laguna. 50 artisti vestiti con le splendide creazioni degli storici atelier veneziani che faranno rivivere le rive di colore e arte. Un carnevale ricco di eventi ovunque. L'anno scorso abbiamo creato questo palcoscenico all'aperto con un grande teatro galleggiante, abbiamo visto una grande risposta sia del pubblico veneziano, cioè sono dei biglietti a disposizione per i residenti della città, sia per gli ospiti per la città e quindi da sabato 11 a domenica 12 per tutta la settimana grassa, da giudì grasso 16 fino a martedì, un grande spettacolo sull'acqua. Venite a vederlo, ci sono ancora dei biglietti disponibili e ora anche un'occasione per scoprire uno spazio incredibile della città quale l'arsenale di Venezia. Pronta anche la macchina della sicurezza per gestire gli afflussi di persone sia a Venezia che in terraferma, con le numerose stilate di carri che quest'anno saranno anche a Mestre per la prima volta. Grazie a tutti.